Nessuna necessità di chiusura dell'ITIS di Pratola Peligna è quanto è venuto fuori nel corso del sopralluogo di questa mattina che si è svolto nell'edificio scolastico pratolano alla presenza del presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, e di alcuni tecnici incaricati dall'ente. Le rilevazioni statiche, non avendo prodotto anomalia alcuna sul fronte dell'agibilità, non rendono necessaria la chiusura del plesso scolastico, come ricorda lo stesso Caruso. Anche se pesa, come un macigno, la verifica svolta recentemente su uno dei due corpi di fabbrica che ha evidenziato un indice di vulnerabilità sismica pari a 0.09. Si tratta di due filoni diversi. La scuola resta agibile alla luce delle verifiche statiche, per cui non vi è alcuna necessità di chiusura. Sul fronte della vulnerabilità a tutt'altro piano di analisi abbiamo disposto ulteriori approfondimenti con un team di tecnici, annuncia Caruso ai nostri microfoni. Sostanzialmente l'indice di vulnerabilità sismica pressoché nullo rilevato su un corpo dell'edificio risente della scarsità di elementi a disposizione per l'analisi prodotta, da cui la necessità di ulteriori urgenti approfondimenti per avere il quadro completo. Il timore di una possibile inchiesta, che pure potrebbe scattare, e lungo silenzio non hanno scomposto le addette ai lavori, anche se c'è da rilevare che chi sapeva per tutto questo tempo nulla ha fatto né ha agito per divenire agli approfondimenti di cui si parla. Discorso a parte per il rientro del Delino Morandi che comunque sta imboccando la via di casa.